Antonella Trapani, segretaria del PD, una dura sconfitta per il Partito Democratico. Sì, in senso generale anche qua a Domodossola, capisco perfettamente. Sì, una sconfitta sul quale rifletteremo nei prossimi giorni, ma che deve farci pensare che dobbiamo migliorare nel nostro progetto politico. Oggi gli elettori non hanno dato fiducia a quello che abbiamo fatto e a quello che volevamo fare. Quindi onore ai vincitori, le mie congratulazioni al nuovo sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi. Ma non si preoccupi, il PD è sconfitto ma non è ancora morto, per cui siamo qua ancora per combattere per i prossimi cinque anni.